Piatto preferito Dipende da che cosa si intende per piatto preferito Perché normalmente il mio piatto preferito è la pasta con l'anduja Però ovviamente se andiamo al ristore, se parliamo di piatto preferito più in generale direi il sushi Colore preferito Colore preferito o il nero Film preferito Allora il mio film preferito è di base Shining Però è difficile in realtà dirne uno Diciamo che non ne ho uno preferito Mi piacciono, cioè ci sono generi che mi piacciono di più, che mi piacciono di meno Però non ne ho proprio uno preferito, sarebbe troppo difficile da scegliere TikTok o Instagram? Non lo so, allora diciamo che con Instagram ho più familiarità Quindi scelgo Instagram L'accessorio a cui non rinunci mai? Accessorio a cui non rinuncio mai Ho dei braccialetti che mi sono levato, dei braccialetti per fare Per la serie tv me le sono dovuti levare Però ne ho diversi che mi sono stati regalati oppure li ho comprati in viaggio Quindi diciamo che sono tipo dei portafortuni Se potessi avere un superpotere, quale sarebbe? Allora, qui ci sarebbe da aprire un discorso di 30 giorni Perché io sarei indeciso tra il teletrasporto o l'invisibilità Però direi l'invisibilità perché è troppo più utile Sei innamorato? Domanda difficile e anche un po' cattiva Diciamo che al momento no, però prossima domanda Il tuo punto debole? Io non ho punti deboli, sono perfetta A parte gli scherzi Punto debole? Non ci ho mai pensato al mio punto debole, non lo so Forse il fatto che tendo a fidarmi un po' troppo delle persone Ogni tanto Il tuo punto di forza? Forse che tendo a fidarmi troppo delle persone È sia un punto debole che un punto di forza in realtà Materia preferita a scuola? Allora, la materia che preferisco di più a scuola in questi ultimi anni È diventato, sono diventate il latino e la storia Inizialmente era soltanto la storia perché non facevo il latino Però il latino mi piace veramente tanto Voto in condotta? Non me lo ricordo Comunque l'equivalente di 8 mi pare Una cosa che ti rende felice? Una cosa che mi rende felice? Vabbè, a parte comunque recitare, stare sul set In generale stare con gli amici Una cosa che ti fa paura? Allora, sono non proprio arachnofobico Diciamo che mi danno proprio Non mi fanno paura e nemmeno schifo Mi danno noia ai ranni Proprio al vederli mi dà fastidio E sono agofobico per lo stesso motivo Cioè io quando vedo un ago dico Penso proprio Oh mio Dio, ho un ago dentro di me E quindi mi mette ansia questa cosa Momento indimenticabile che hai vissuto con il cast di New School? Uno Allora, ci sono diverse cose Per prima cosa Noi abbiamo una specie di tradizione Alla fine di ogni set Alla fine giornata dell'ultimo giorno Noi prendiamo e iniziamo a scappare per le varie aree Per tutto il set Con conseguentemente gli altri che ci rincorrono Perché dicono dove vanno questi? Mi viene l'ansia, no? E quindi ci divertiamo così E quindi ci rincorrono E quindi ci rincorrono